In quel tempo, l'angelo Gabriele è comandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, ella fu molto turbata, e si domandava a che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, che verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Jacoppe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vestiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio, allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola, e l'angelo si annunzano da lei.